Salve ragazzi, vi saluto oggi dal nuovo video di CCT Shop. Oggi abbiamo un nuovo apparecchio FETA H9500. Sulla scatola non c'è stato niente, però qua come vedete c'è il S4, un 5 pollici, c'è un apparecchio con un quad core, IPS display, camera 8 megapixel, Android 4.1. Abbiamo un'ottima risoluzione di 720x1080 in full HD, 1 GB di RAM. Abbiamo installato multilingue. Bene, per il resto dico che guardiamo dentro la scatola cosa c'è dentro, Android S4 oppure FETA H9500. L'apparecchio mettiamo da parte, quindi abbiamo qua Flipkava standard, come colore. Il Flipkava dipende dal colore, come so, è disponibile bianco e agento. Significa se acquistate un cellulare bianco, avete anche questo per Flipkava bianco. Bene, questo per Flipkava, poi abbiamo auricolari semplici bianco, non in-ear. Abbiamo qua il caricabatteria, come sempre, qua un cavo USB. Lo apro. Un standard USB, circa mezzo al centimetro lungo, il micro USB. Abbiamo due batterie, accumulatori. Se fa vedere il zoom, non funziona, manualmente. 2.600 mAh, due batterie. E poi abbiamo un screensaver, una pellicola protettiva, 5 pollici. E una guida di istruzione in inglese. E' un po' adeguato, diciamo, sono 36 pagine, un libro di 36 pagine in inglese. Poi mettiamo tutto in una scatola, una batteria, ci prendiamo. Poi vediamo l'apparecchio. Qua abbiamo qualcos'altro, cos'è? H9500, H9500. Poi, come avete visto, non c'è un logo. Qua c'è un logo dell'Android. Come vedete, questo agento, un agento. Qua a destra abbiamo il pulsante per accendere. Qua abbiamo la cosa per staccarli in cava. Qua abbiamo la camera con il flash. Poi ingresso per auricolare. A sinistra abbiamo volume. Qua abbiamo ingresso micro USB e il microfono. Qua giù in basso abbiamo l'autoparlante. E tutto il resto è normale, niente di nuovo, niente di particolare. Come tutti gli altri apparecchi, nuovi pulsanti. Qua vediamo H9500, 1 GB di RAM. E sopra abbiamo i due ingressi SIM. Come vedete bene, il VCDMA. E sinistra. Qua potete usare internet mobile. E qua il GSM, la scheda GSM. Giù un attimo la finestra. E per SIM normale, SIM 2. Questo slot per il micro SD. Per la scheda micro SD. La vostra scheda. Poi, potete mettere un attimo la batteria. La batteria, dovete vedere dove sono i contatti. Quasi in mezzo. Doveva essere così. Altrimenti non si accende l'apparecchio. Poi, chiudiamo. Facilmente si fa chiudere il back cover. Accendiamo a destra l'apparecchio. Come vedete, il root, c'è l'android. Una pellicola è già attaccata. Poi, un'altra è nella scatola, come avete già visto. Bene, ci vediamo adesso diverse cose. Primo, ci vediamo il AnTuTu Benchmark. Vediamo qualche giochi, internet, wifi. E poi, cosa facciamo? Anche la camera, sì, certo. E iniziamo con la guida cancellare. Qua dobbiamo per prima cambiare la lingua. dove c'è la A. Dobbiamo mettere la nostra lingua, in questo caso tedesco. Faccio la traduzione. Comunque, tutto liscio, tutto veloce. Vediamo tutte le lingue. francese, italiano, come vedete, hollandese, turchese, russo e anche tedesco e inglese. italiano, importante. Tutte le lingue che sono necessarie o che servono. Incendiamo il VLAN. nostra connessione. Bene. Cinque pollici. Molto buono nella mano. A me, personalmente, le cinque pollici mi piacciono di più, perché è un attimo più grande il screen. Io, personalmente, preferisco di prendere un apparecchio con cinque pollici, che è un po' più grande, però chi preferisce ancora più grande ci sono. Però cinque pollici è ottimale. Diciamo, preferisco io. Entriamo per la sonoria. Bene, questo vediamo dopo, in un video, come c'è il suono. Display, illuminazione, è messo al massimo. Poi potete configurare il G-sensor. Qua mettete dritto l'apparecchio. Calibrazione. calibrazione. Ok. Così funziona bene per i giochi. Qua abbiamo la memoria, un gigabyte e memoria del telefono 1,8. In totale, saranno cinque gigabyte, indicato nel nostro shop. Come sistema operativo, avete Android. 4 gigabyte. Siamo quindi intorno di 4 gigabyte del telefono. L'informazione GTH 9500. Android version 421. Jelly Bean. 421. Bene. Poi... Possiamo scrollare velocemente. Nessun problema per 4.4 CPU. Entriamo nelle applicazioni. Abbiamo Google Play Store. Abbiamo un FM radio. Camera, documenti, flashlight. 4.2.1. Applicazioni, tutti quelli che sono disponibili. Poi, questo nuovo del Android 421. Broadcasting, questo per me è nuovo. Non mi ricordo, questa funzione non è male. per salvare le vostre impostazioni e applicazioni. Potete salvare tutti i dati. Poi, cosa troviamo? Navigazione. Google. Google. Fase di beta ancora. Qua. Dovete... L'applicazione. L'applicazione. Cosa si può disinstallare? L'applicazione mobile player. Mobile player non può essere disinstallato. Solo con un root del cellulare. Flashlight. In questa app abbiamo una luce. Flashlight. Uh, dann vorrei dire... Entriamo... ... Entriamo... Entriamo... ... nella scheda SD. Qua. Facciamo installazione del benchmark. Dove dobbiamo... ... fare la verificazione dell'applicazione dell'android. Questo nuovo. Prima non c'era questa verificazione. Nelle versioni precedenti. Bene. Qua. Io spendo la verifica dell'SD card. Così più... Un attimo più veloce. Anche se si abbassa il score finale. Cos'altro posso dire? Adesso vediamo la risoluzione del display. Sono molto curioso di vederlo. Qua dal lato. Come vedete anche dal lato si vede bene. Anche in un angolo basso. Si può leggere ancora perfettamente. A parte la... Che fa un po' riflesso la luce. Adesso comunque... Si vede... Si vede che è un buon display. Nel logo... Nel logo dell'antutu benchmark. Qua sono altri punti del menu che si vede comunque benissimo. Non vengo... È un angolo molto basso. Si può leggere bene. Bene. Cos'altro posso dire dal Feitan H9500? Bene. La camera la vediamo dopo. L'apparecchio peso 168 grammi. È abbastanza... Si... Leggero. È un peso normale per un apparecchio di questa dimensione. GPS naturalmente è disponibile su questo apparecchio. Per questo aspettiamo un attimo il risultato del benchmark. Come vedete siamo quasi da 60 frames da questo testo precedente. la metto un po' più vicino così vedete i valori. è un po' più vicino. Il risultato del risultato. È un po' più vicino. È un po' più vicino. è abbastanza bene. Poi entriamo nell'informazione del sistema, qua vediamo Mediatek MT6589, CPU 1,1 GHz, la risoluzione 720x1280, io avevo detto 1180x320 dpi, abbiamo un gigabyte RAM, quasi un po' più basso, ma comunque abbiamo 12 megapixel la camera e 5 megapixel front-facing camera, i dati precedenti avevo avuto di un'altra indicazione, dopo lo verifichiamo, versione Android 4.2.1 abbiamo già visto, abbiamo visto tutto quello che ci interessava, entriamo nel GPU identifier, non dovrebbe essere qualcosa di nuovo, però vediamo MTK6589 per 1,2 GHz, più un gigabyte di ARAM e un single core GPU. Pdf documento, sì, abbastanza veloce il processore, anche quando giriamo l'apparecchio, non volevo interrompere questa cosa, ok, accettiamo, dopo, ok, bene, scarica velocissimo, questo pdf apre velocissimo, si vede la differenza da un dual core a un quad core, perché carica molto più veloce, penso che si può leggere bene, così, su un display di 5 pollici, possiamo vedere abbastanza bene, anche se c'è un piccolo riflesso, questo del luce, si può ingrandire, spostare, è il display eccezionale, bene, guardiamo il video, full HD video, se volete video, se vedete un po' movimenti nel video, non nel cellulare, perché ho fatto io questo video, l'ho tagliato io questo video, però comunque, per esempio qua come vedete la velocità non è pareggiata, questo dipende del video, ma si può vedere senza problemi, questo lo vediamo ancora all'ultimo salto, bene, perfetto, sì, se siamo qua, vediamo anche il real racing, installiamo, raging thunder, dobbiamo verificare, non vogliamo verificare adesso, metteriamo nel gioco, nei prossimi giorni vi faccio vedere, negli altri video, magari altri nuovi giochi, non vogliamo verificare adesso, qui è un po' di più, qui è un po' di più, qui è un po' di più, Grazie a tutti. L'ho beccato. Non è male. Devo ancora allenarmi a casa. Posso solo allenarmi in questi video. Ma come vedete si può giocare benissimo. Quattro posto. Magari un giorno riesco a fare il primo. Non c'è problema per questo gioco. Anche nei nuovi giochi non ci sono problemi per questo quad qua. Parecchio. Insaliamo Granny Smith. Non accettiamo. Un ottimo suono. Bene, senza problemi. Anche tutte le grafiche in 3D. Bene, quindi avete visto Granny Smith. Granny Smith funziona perfettamente. E vi faccio vedere nuovi giochi nei prossimi video. Bene, come vedete l'applicazione potete usare anche in posizione inclinata. Entriamo veloce in internet. E anche la camera non vogliamo dimenticare. La vediamo. Google funziona oggi senza problemi. Qua ha cambiato qualcosa nella misola di Google. Avete qua CCTV shop, il nostro foster shop, dove potete ordinare tutti i cellulari e i tablet. Poi abbiamo il video, la piattaforma di video, una piattaforma cinese. Vi faccio vedere un video per la funzionalità del flash. Vediamo un buon bel video. Possiamo provare anche di girarlo. Noi, sono curiosi. Come on! Come on! Salut il pubblico! Vattel! Come on! Il va affronter... ...une fille! Vous êtes là les filles? Il y a delle filles ce soir? Un prodigio, un prodigio! Ma attention! C'è la Benjamine! Il n'a che 6 anni! Yes! Il break... Sa sore était déjà un breakus. Forsemmo c'è come ça che ça se passe. Il fait partie de un groupe qui s'appelle le Soulman Rick, le Dragonhead. Il là ce soir fait du bruit pour Terra, qui vient d'Angleterre! So, le service in force pour la nuova. Allora, un po' avanti, così vediamo qualcos'altro. Allora, un po' avanti, così vediamo la funzione. ...perfettamente il flash. Andiamo su un sito tedesco. L'ultimo notizie della Germania. È molto veloce. Non ci sono problemi. Beh, per scrollare, per zoomare. Questo è il nuovo del Marathon di Boston. La camera la vediamo adesso. Dove è finita? Ecco qua. Bene. Facciamo un'foto. veloce e senza problemi. Facciamo un'foto. Questi erano 30 centimetri del schermo. Come vedete, la qualità è buona e la luce comunque fa un po' venire le strisce sullo schermo. Allora, abbiamo la camera frontale. Vediamo la risoluzione a 5 megapixel. Front facing camera. Poi, la camera normale ha un autofocus, un flash. E abbiamo la risoluzione di... Sino a 13 megapixel. Se sono 13 megapixel realmente, non posso dire, però le immagini sono grandi quanto da una camera da 13 megapixel. Qua è una qualità eccezionale. Bene. Penso che abbiamo visto tutto di questo cellulare. Vi faccio vedere ancora la tastiera. veloce, senza pausi, pausa. E questo apparecchio neanche molto caro, penso. Non lo dovremmo guardare nel shop. Cliccate sul link sotto il video. Potete modificare il vostro gusto. Potete buttare nel cestino. Potete cambiare il widget. Potete installare nuove widget. Non ci sono problemi con Google Play. Il vostro account di Google Play. Applicazioni, giochi, widgets. Guardate nell'internet. Se cercate qualcosa di particolare. Bene. Direi che abbiamo visto di questo apparecchio. Vi ringrazio che mi avete seguito durante questo video. Iscrivetevi sul nostro canale. E a presto.